Arrivati nel nostro censimento delle pagine e dei gruppi che parlano, raccontano del camperismo in tutti i modi, siamo approdati, grazie a segnalazione Andrea Fabi, che salutiamo, a camperisti amanti della Norvegia e del Grande Nord. È un gruppo privato, si occupa di che cosa? Di tutti quei camperisti che adorano il Nord Europa e quindi in qualche modo o ci sono stati o sono desiderosi di informazioni. Veniamo a scoprire, è stato creato l'11 settembre 2017 e vediamo che cosa dice, cioè il gruppo è aperto a tutti coloro che sono interessati alla Norvegia, al Grande Nord, Per Grande Nord si intendono i seguenti paesi, Danimarca, Svezia, Finlandia, Islandia, Svalbard e naturalmente Norvegia. Conviene leggersi tutto quello che c'è scritto, assolutamente, perché è veramente molto interessante. Torniamo alla pagina principale, lo stesso Andrea qui che ci invita a utilizzare la sezione file per consultare, scaricare itinerari e informazioni varie. È incredibile, andiamo alla sezione file, guardate che roba, guardate che roba, guardate, è una miniera, è una miniera, è una miniera. Quindi ringraziamo camperisti della Norvegia e del Grande Nord, questo gruppo privato, perché i suoi 4281 membri contribuiscono a far sì che le nostre vacanze nella Nord Europa saranno ancora più belle, ancora più interessanti e per il momento comunque ci permettono di sognare.